Sesto Grilli, operaio in pensione di 74 anni, è stato trovato morto, diverso sul pavimento di casa sua in località Roncaglia, nelle campagne attorno a San Lorenzo in campo, legato ad una sedia di imbavagliato con del nastro adesivo grigio di tipo americano dagli uomini del 118, occorsi sul posto pensando ad un mallore improvviso. L'uomo che viveva da solo nell'abitazione, che vedete alle mie spalle, è stato trovato da un vicino di casa intorno alle 11.30 di ieri sera, perché è insospettito dalla porta di casa aperta, si è introdotto in casa e l'ha trovato imbavagliato e legato. Con la luce di casa ancora accesa, pensando quindi ad un mallore a quel punto, ha avvertito i soccorsi, che però una volta in casa dell'anziano si sono subito resi conto della situazione ed hanno avvertito immediatamente i carabinieri. Assieme ai militari dell'arma sono arrivati anche il medico legale, Loredana Buscemi, per esaminare la salma e da una prima analisi la morte sembrerebbe risalire a 24 ore prima del ritrovamento, quindi attorno alla mezzanotte tra sabato e domenica. Le echimosi presenti sul corpo dell'uomo però non è chiaro se sia un effetto di un pestaggio o le conseguenze della caduta di faccia sul pavimento del 74enne nel tentativo disperato di liberarsi e chiamare aiuto. A questo ed altri quesiti medico-legali dovrà dar risposta all'autopsia disposta dal PM Letizia Fucci del Tribunale di Pesaro. Ma non sono solo questi gli elementi poco chiari di questa vicenda che all'apparenza sembrerebbe una rapina in casa finita male, ma che presenta secondo i carabinieri diversi aspetti contrastanti. Primo fra tutti l'assenza di segni di effrazione sulla porta d'ingresso e finestre dell'abitazione, cosa che fa pensare che Grilli o conosceva chi si è introdotto in casa o gli ha aperto lui stesso. Il contesto socio-economico dell'uomo che viveva solo in casa, operaio in pensione, un po' tuttofare che si arrabbattava con lavoretti o vendita di animali di bassa corte che lui stesso allevava o uova. La casa deposito nella quale viveva non è certo una lussuosa villa con allarmi e telecamere che fanno pensare a chissà quali tesori custoditi all'interno. Altra cosa, i malviventi o il malvivente che lasciano la porta aperta e la luce accesa in casa dopo il fattaggio, incuranti di coprirsi poi la fuga. E poi l'uomo che era ben inserito nella società, era un tuttofare anche nella croce rosa del distaccamento di Senigallia, dove era volontario ed organizzava anche tornei di morra in città. Insomma, un uomo che viveva delle sue cose, ma non un isolato. Sono molti quindi gli elementi che ora i carabinieri della compagnia di Fano, coordinati dal comandante Alfonso Falcucci e dai colleghi del nucleo investigativo di Pesaro, dovranno esaminare per valutare e risalire così alla verità di questo efferato delitto che ha sconvolto tutta l'intera comunità della vallata e di San Lorenzo in campo.